Una condanna e tre assoluzioni nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio Preter intenzionale di Bernardo Chiapparo a Favara. I dettagli sul capo di imputazione e l'evoluzione delle indagini. Lo scorso 5 dicembre ad aggrigento alla Palazzo di Giustizia il Pubblico Ministero Maria Barbara Cifalinò, a conclusione della requisitoria proposta al giudice per le udienze preliminari del Tribunale Giuseppe Miceli, la condanna dei quattro imputati giudicati in abbreviato dell'omicidio Preter intenzionale del favarese Bernardo Chiapparo, morto a 68 anni il 10 febbraio del 2016, vittima di una presunta spedizione punitiva. E l'inchiesta è stata infatti intitolata giustizia privata. Il pestaggio dell'uomo ha provocato conseguenze fatali oltre le intenzioni. Ecco perché è contestato l'omicidio Preter intenzionale. Sono stati invocati otto anni e otto mesi di reclusione a carico di Antonino Pirrera, 45 anni, poi quattro anni, sei mesi e venti giorni ciascuno per Giovanni Ruggerri, 87 anni, Carmelo Pullara, 32 anni e Michele Sorce, 39 anni. Ebbene adesso il giudice Miceli ha condannato solo Pirrera a sei anni di reclusione e ha assolto Ruggerri, Pullara e Sorce. Nel collegio difensivo hanno lavorato gli avvocati Salvatore Pennica e Alfonso Nerri. Le parti civili sono state assistite dagli avvocati Giuseppina Ganci, Gisella Spatarro e Francesco G. Bilarro. Il 5 dicembre del 2016 a Favare i carabinieri della locale tenenza, in collaborazione con i colleghi della compagnia di Agrigento, hanno arrestato Pirrera in carcere e poi Sorce, Pullara e Ruggerri ai domiciliari. Poi il 16 dicembre il Tribunale del Resame ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare, ritenendo carenti i gravi indizi di colpevolezza e ha restituito la libertà a Pirrera e Ruggerri. E così è stato poi anche per Sorce e Pullara. Poi la Procura il 9 febbraio del 2017 ha concluso le indagini e ha notificato il relativo avviso. Bernardo Chiapparo è morto il 10 febbraio 2016 all'ospedale di Agrigento, dove il 1 febbraio precedente è stato ricoverato con un grave trauma cranico provocato, come ha raccontato colui che lo ha accompagnato in ospedale da una banale caduta. Dalle indagini sostenute dai carabinieri è invece emerso che Bernardo Chiapparo sarebbe stato violentemente picchiato perché avrebbe sgridato e forse mollato uno schiaffo al figlio minore di Antonino Pirrera, un bambino, perché avrebbe tirato dei calci ad un'insegna pubblicitaria dell'autolavaggio dello stesso Bernardo Chiapparo. Dunque, il padre avrebbe organizzato la spedizione punitiva contro Chiapparo, che sarebbe stato colpito con un pugno al torraccio e dallo stesso Pirrera, è caduto a terra sbattendo la testa ed è poi morto per emorragia cerebrale non operabile. Inizialmente sotto procedimento giudiziario sono stati poi scaggionati altri due favaresi. Ai due non è stato contestato l'omicidio pretere intenzionale di Chiapparo, ma di avere tentato di depistare le indagini. Uno con false dichiarazioni al pubblico ministero, perché avrebbe assistito a quanto accaduto, ma avrebbe smentito dichiarando di non essere a conoscenza di nulla. E l'altro avrebbe invece negato di aver appreso da un altro figlio di Antonio Pirrera dello scontro con Chiapparo.